Cool, 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 cool Monday, cool fuck yourself. Benvenuti all'ottava puntata di Cool Monday, il nostro podcast, il podcast di Cool Beans, e grazie anche a MC Jack che ci delizia con la tastiera che oggi è in vacanza e abbiamo scelto di spostare tutto sul computer, come vedete Giacomo sta prendendo confidenza con l'attrezzo. In questa puntata, Giacomo, parleremo di un'infarinatura generale di questo cinema che si sposterà leggermente dagli anni 80 per fare un excursus nel presente, per arrivare fino a qualche raccontino su come è nata una nostra hit, di cui avrete visto anche il video, perché è stato un capolavoro. Mi piace autocelebrarmi e ho una maglietta stupenda. Giacomo. Anche gli occhiali non scherzano. Grazie, ti ringrazio. Anzi, sai cosa facciamo? Cosa? Ti va ad iniziare ogni puntata dicendo una cosa che ci piace dell'altro e una cosa che non ci piace dell'altro, però vera. Vera? Vera. No. Andiamo avanti. Allora. Mi pareva una bella idea. Racconta un po'. Dai, prova, prova. Una cosa che ti piace di me. La felpa. Veramente? Sì, è bella. Ok. Una cosa che non ti piace di me? La felpa. Comunque. No, dai, serio, vai. Ma perché dobbiamo fare una sessione di terapia durante un podcast? Mi pareva un'idea bellina. Sì, magari appena mettiamo giù vi assicuriamo che ci diremo due robe carine, poi magari limoniamo anche, già che ci siamo. Non vedo l'ora. Non mi sono fatto la bartba apposta. Bartba. San bartba. Non ne veniamo fuori, ragazzi. In realtà voi non lo sapete, ma abbiamo provato a fare questa puntata per... Per due ore. Sto notando che meno parlo, più la qualità di questo podcast... Diminuisce. Aumenta. No, no, diminuisce. Veramente? Sono importante. Sì, sei importante. Ok, questa la prendo come caso carina e... Casa carina. Casa carina. La mia idea è stata effettuata, mi sento importante. Ma una cosa non bella è come balli. Non ti è piaciuto? Non mi è piaciuto tanto. Posso riprovare? Provo. And his name is John Cena! Meglio? Sì, sembravi uno sotto tortura, però vabbè. Ok, fantastico. Comunque hai detto che andiamo in trasferta temporale dagli anni Ottanta a... Ai giorni nostri. Ai giorni nostri. Che sono... E trasferta temporale e... Culturale. Culturale e... E geografica. E geografica. Esatto. Oggi esploreremo un film che, onestamente, non possiamo non parlare di questo film. Perché voi, di sicuro, adesso che è sotto le luci della ribalta, l'avrete notato. Ma noi, da precursori intellettuali... Non proprio. Non proprio. Anche noi eravamo un po' tardi. Un po' tardi, ma prima rispetto a voi, sicuro. Abbiamo guardato su Netflix. Asterix. Avevo un grumo di cemento che non riuscivo a mandare giù. Un grumo di sangue nel cervello. Un grumo di Puglia. Andiamo avanti. Dicevo, questo film che ci è piaciuto tantissimo dopo un'ora e mezza. È vero. Perché, diciamo che la prima ora e mezza è stata abbastanza... Piena di dubbi. Sì. Si presenta come un film che, se non si capisce, è un po' pesantino perché è lungo. È lungo. Surreale. Esatto. Risulta surreale. Comunque, questo film si chiama Ararar. Film indiano. Di SS Ratmajuli. Grazie di verbo che non mi ricordavo. Eh, ma ti ho visto in crisi. Di sicuro non andrò a vedere altri film suoi oltre a questo e all'altro che abbiamo visto. Baubali. Baubali. Parte 1-2. E c'è anche una serie. Vabbè, comunque andiamo avanti. Facciamo un piccolo riassunto della storia di Ararar per spiegare un po' dopo nei dettagli questo film. Ararar RRR è la storia di due rivoluzionari indiani spostati. In un'India coloniale? In un'India coloniale che in realtà è ispirata a due rivoluzionari veri che però non si sono mai incontrati. e la rende tipo l'inglorious busters della storia indiana. Nel senso che il regista scrive e quello che scrive il screenplay. L'autore. L'autore del film. Grazie Matteo. Prego. Li fa incontrare e li fa diventare migliori amici. È una storia di... Sì, un falso storico adattato al cinema. Ma insomma, molte cose sono false in questo film. Nel caso di Inglourious Bastard, che è ovvero Bastardi senza gloria di Tarantino, guardatelo perché per chi non l'avesse visto altrimenti stiamo spoilerando il finale. È la storia di due uomini con missioni molto diverse ma che alla fine si renderanno conto di avere un nemico in comune adesso. E tutto questo viene spettacolarizzato come... Scusami, il nemico in comune è... Ed è l'Inghilterra. L'Inghilterra coloniale. Sì, sì, sì. Che poi tra l'altro, se ci pensi, non è così... Cioè, noi stiamo facendo un excursus storico e anche temporale, ma in realtà è tanto anni 80 quel film. Sembra che l'India stia attraversando i suoi anni 80. 80 adesso, in questo momento, perché viene tutto esagerato, dove vi possiamo assicurare è impossibile descrivere una scena senza che questa passi per una inventata al momento da noi. Sembra scritto da un bambino. Sì, un bambino cresciuto magari che scrive bene, però... No, no, ma non è un insulto, è il tipo di fantasia che richiede questo film. Ah, sì, sì, è tipo la nostra, tipo la nostra, esattamente. No, ma se ci pensi, ad esempio, la prima mezz'ora del film c'è la descrizione del primo eroe. Nella seconda mezz'ora la descrizione del secondo. Sì, l'introduzione. Sì, introducono il primo eroe e introducono il secondo. Poi nella terza mezz'ora si inizia a dare un po' il senso alla storia. Dopo 40 minuti esce il titolo. Esatto. Sì, sì, che prendono... Vabbè, insomma, guardatelo perché merita. Però io vi posso assicurare che... Cercate di guardarlo, scusami se ti ho interrotto, con un gruppo di amici. Sì. Non è assolutamente un film da guardare da soli. Da soli, se volete farvi del male fisico e mentale, guardatelo, ma non resistete. Anche perché nei primi 15 minuti c'è uno che fa la guardia e si lancia contro un esercito da solo con un manganello di legno e ne esce un po' ammaccato, ma vincitore. Cioè, giusto per fare un intro. Io sono il primo a dire che tu esageri un sacco di cose che dici, però vi assicuro che questa non è un'esagerazione. No, 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 succede davvero. C'è un uomo contro un esercito e vince. E già lì... E ci credo? Cioè, lo vedo e ci credo? Sì, ma fai bene. Allora, faccio un piccolo... appunto. Giacomo, quando mi aveva proposto la prima volta di guardare questo film, io mi ero rifiutato perché non avevo intenzione di buttare via tre ore della mia vita per guardare una cosa del genere. Dopo averlo visto, sono convinto comunque di aver buttato via tre ore, però almeno ho riso. Cioè, nel senso... Io l'ho visto due volte. Vabbè, cioè, la tua vita era già nel cesso da... Esatto, non avevo assolutamente meglio da fare. No, comunque, questo film... perché parliamo di questo film? Perché è arrivato adesso sotto le luci di Hollywood e ha vinto la canzone Natu Natu, che in realtà nel film si chiama Naccio Naccio, perché in un'altra lingua. Natu Natu è la versione originale in Terugu. Naccio Naccio è in indie. In un'altra lingua? Sì. Grazie. No, no, scusami, è perché stavo pensando che non capisco perché Netflix non ce l'abbia in lingua originale. Non ne ho idea. Strano, ma? Non lo so. Sono passata alla scelta di marketing, non ne ho idea. Comunque non vado a interrogarmi. Di sicuro, quando sono da solo, magari al bagno a fare i miei bisogni, non mi interrogo perché Netflix non abbia scelto di pubblicarlo, che non è uno dei miei dubbi... Vabbè, non arrabbiarti. No, non mi sto arrabbiando, è sempre così. Questo richiede un po' di terapia. No. Andando avanti... Vabbè. Comunque questo film ha delle parti che sono disumane, si trasforma in un musical dopo un attimo. No, dopo un'ora. Dopo un'ora. Ha il coraggio di mettere un numero Disney musicale. Che ha vinto un Oscar. Che ha vinto un Oscar. Agli ultimi Oscar ha vinto... Ok, Oscar... Cioè, nel senso, tutte le edizioni Oscar prima di questo, andatevene a fanculo. Avete finalmente capito cos'è il vero cinema da quest'anno. Sì. Però, ammettiamo che siano state tre ore divertenti. Abbiamo dovuto spezzarle in due serie, perché tre ore di fila portavano di sicuro nel tunnel dell'eroina. Però... o comunque delle droghe pesanti. Io avrei voluto vederlo al cinema. Beh, io no. Ok. Cioè, avrei voluto vedere altro al cinema che non ho visto. Non Avatar. Ma di sicuro non Ararar. Questo è l'Avatar indiano, se ci pensi. Sì, perché fa cagare. No, dai. Ok, scusami. Vabbè, comunque, siamo arrivati a parlare di questo film che vi consigliamo. Cioè, magari avete un momento in cui siete giù e non avete voglia di prendervi troppo sul serio, guardate, prendendo con le pinze questo film, e chiaramente sempre avendo un compagno con cui commentarlo. Almeno, guardate. Guardate almeno la prima mezz'ora, 40 minuti, e decidete se proseguire. perché le due introduzioni dei personaggi, c'è il personaggio di... Cazzo, non mi ricordo il nome. Non so i nomi, perché sono tutti uguali per me. Comunque, di quello dell'eroe che rappresenta l'acqua, perché sono tipo i Power Ranger, cioè uno c'è l'acqua e l'altro c'è il fuoco come elemento. No, perché sono quegli unici due elementi, perché sono contrapposti. Sì. Ma io sai che mi immaginavo che saltassero fuori altri elementi? Mi ero preso bene, tipo i Pokémon. Ma effettivamente dopo un'ora e mezza di film che avevamo fatto l'introduzione, beh, dura tre ore, alla fine sono tutti corti che introducono vari guerrieri. Invece no, c'è una storia dietro, ovviamente c'è l'amore, c'è la musica, ci sono proiettili, ci sono flashback che durano 40 minuti. 40 minuti anche quelli, però tutto questo merita di essere visto una volta nella vita. Io l'ho già consigliato in tutti i gruppi WhatsApp che ho, non sono stato ascoltato, ma è come in tutte le cose, i precursori vengono presi per pazzi. Esatto, è la genialità che viene scambiata per pazzia. E invece noi siamo solo dei pazzi. Perché ci stiamo perdendo meriti, come se ne avessimo fatto sto film? Comunque... No, scusami, per concludere, guardatevi almeno le due introduzioni... Fateci sto piacere, guardatelo. C'è l'introduzione dell'eroe dell'acqua, che fa scontrare due animali. Jack, infatti io ti guardi, non è che devo saltare di gioia, vai avanti a parlare, ti sostengo stando zitto. Perché ho richiesto con lo sguardo la tua provazione. Ti vedo, sì. Un altro momento terapia. Ok, no, l'introduzione dell'eroe dell'acqua in cui... Ti ha colpito particolarmente, la tiri fuori spesso sta cosa qua nell'introduzione. Ha fatto scontrare due animali, dopo averli seminati con la corsa, uno essere un lupo e l'altro una tigre. Sì. E ha lottato con una tigre a mani nude. Sì. E l'ha legato, l'ha tentato di intrappolarlo, per dopo addormentarlo e dirgli scusa fratello. Sì, sì. Cioè, c'è il macismo, però questo eroe è sensibile. Canta benissimo, balla meglio. Cioè, quello è forse il mio personaggio preferito di sempre. Di sempre. Assolutamente. Di tutti i film che hai visto, il tuo personaggio preferito è quello di Ararar. Sì, che non mi ricordo il nome. Vabbè, è il suo personaggio preferito, non sa il nome. L'eroe dell'acqua. Va bene. Dopo che abbiamo buttato via altri 20 minuti della nostra e soprattutto della vostra vita, che continuate a guardarci, ma siete scemi. Passiamo a una parte che è nuova in questo podcast. Passiamo in una parte dove vi spiegheremo un po' come abbiamo creato i pezzi, perché siamo due prostitute, dobbiamo dirlo. Non dimentichiamoci che... Non dimentichiamoci che siamo due prostitute e il fine ultimo è di fidelizzarvi per arrivare a farvi ascoltare il disco che uscirà a breve. Abbiamo anche fatto le foto, siamo molto belli. Possiamo dire il titolo? No, lo diremo più avanti. Teniamo l'iscolo col fiato a sospeso. Ecco qui la copertina. Ecco qui. E metto una roba a casa. Comunque, dobbiamo mettere più cose di Ararar. Mi hai appena dato un'idea. Sì. Scusami, scusami. Comunque, sì. In questo punto parleremo un po' di Runaway. Vi faremo sentire alcuni suoni. Runaway di Kanye West? No, Runaway dei Cool Beans, perché noi siamo i Cool Beans. Intanto Kanye West, bisognerebbe aprire una puntata a parte per le puttanate che ha fatto ultimamente. Scusami, mi è venuta sulla salamella del... che ho mangiato quattro settimane fa, probabilmente. Ok. Vi faccio un preambolo storico per quanto riguarda la canzone. Allora, io e Giacomo abbiamo deciso di fare questo gruppo, di creare questo gruppo per divertirci, ma soprattutto per divertire. E per fare i milioni. Per fare i milioni. Quella sarà una conseguenza diretta. Per ora non ci stiamo riuscendo, infatti stiamo facendo questo podcast con Giacomo vestito come... Un tossico dipendente. Sì. Dillo. Ok. No, volevo dire... Era un diso tra Elton John e qualcosa del genere, però... E io subito... Un tossico dipendente. Hai sbagliato un attimo. Ok. Comunque, quando arriveremo a fare i milioni, faremo delle feste clamorose. Detto questo, Runaway, iniziamo. Eravamo a Recoaro. Era andato a trovare Giacomo nel piccolo paesino, simpatico paesino, dove si beve tutto forché l'acqua. E abbiamo iniziato a lavorare a dei pezzi. Quando da ubriachi abbiamo detto, dopo aver fatto serata, era tardi, facciamo un intro strumentale per questi pezzi. Facciamo una roba figa che carichi. E com'è andata poi? Raccontami la tua parte, che magari è diversa da quello che ricordo io. Perché io avevo una spada in mano, mi ricordo. Non mi pare. Però era la serata in cui era il compleanno di Ilaria e c'era una tipa che non smetteva di parlare. Io ti giuro, quella lì, cioè io sono contro qualsiasi forma di violenza, contro qualsiasi forma di persona. Però vi posso assicurare che intellettualmente e psicologicamente siamo stati noi a essere stati violentati. Perché questa ragazza non ha smesso di parlare un minuto pur non conoscendoci. E tra l'altro ci siamo anche presi delle parole. Perché eravamo in bar, stavamo suonando per i cazzi nostri. Ci siamo presi dei... Che schifo! Che schifo questa canzone. Stavamo facendo un pezzo di Luis Capaldi, mi ricordo ancora. Con una chitarra... No, stavamo facendo Saino More. Ah, Saino More, con una chitarra senza corde. Sì. Tra l'altro mancava una corda. Ubriachissimi. E è arrivato, ma fa un po' schifo come cantate e suonate. E noi, fai un po' schifo tu. No, noi gliel'abbiamo detto. Perché siamo dei gentiluomini. Esatto, però l'abbiamo pensato. In quanto per parità di genere, quando uno fa schifo, fa schifo a prescindere... Sì, nessuno ha detto il contrario. Stai calmo, per favore. No, perché prima di essere appuntato come... Eh, vuole, dicevo fa schifo. Io odio tutti, indistintamente. Primo, soprattutto i giacoli. Ok. Quindi i... O. Comunque, racconta di Runaway. Fai, insomma, vuoi far sentire... Tu che hai lavorato... Un pomeriggio. Un pomeriggio. Per far sentire questi cazzo di suoni. Fai sentire questi cazzo di suoni. Per dividere... Perché sto in passione. Ok, fantastico. Abbiamo clipato. Comunque, io avevo diviso tutti i suoni che sono saltati fuori quella sera di Runaway. Sì, ti ascolto. Che non avevamo ancora un testo, ma abbiamo tirato fuori... Perché Runaway doveva essere un intro all'album. Sì, sì. L'hai già detto? Scusate, abbiamo fatto questa puntata sette volte. Sì, l'ho detto. L'ho detto poco fa. Ok. E invece è saltata fuori uno dei più grandi pezzi della storia della musica. Della musica moderna. Infatti continuava ad andare intorno a questi accordi e qualcuno ha fatto, penso io, e tu hai fatto accidenti. No, credo di averlo fatto io, sai. Però... No, sai che quella, quella mi ricordo, l'ho fatta io. Tu hai fatto tante belle cose nella tua vita. No. A parte forse nascere. Ma... Io sono quasi sicuro di averla canticchiata. No, mi sa che tu hai fatto... E io ci ho trovato le parole. Sì. Eh, vabbè. Ok. Sì, sì. Siamo d'accordo. Sì, sì. Momento terapia. Mi ricordo di aver cantato il motivetto e dopo chiaramente, come su quasi tutti i pezzi, quando nascono, non si ha... O si ha un testo e si inizia a lavorare su quello, ma è molto facile. Però solo i perdenti fanno così. Esatto. Noi invece cantiamo parole senza senso e cerchiamo di dargli... Sai come si chiama questo in termini tecnici? Come si chiama? Swedish Songwriting. Out Mafia. No. No. Swedish Songwriting. Non ti interessa niente? No, no. Ed è per quello che l'ho detto. Comunque, io farò andare le canzoni con i vari elementi. Elementi, sample. Stems. Stems, sbagliato. Fallito. Comunque, e tu potrai dirmi, oh, isola questo, isola quell'altro. Non isolo nulla, perché... Ok, fantastico. Isola che non c'è. Questo è l'organo famoso. Questo è l'organo iniziale e questo è un tirannosauro. Esatto. Che urla. Cordi devastanti. Mi minore. La minore. Do. Sol. Re. Ma che cazzo? Ok, fantastico. Perché devo dire gli accordi... Senti questo rullante. Ecco, questa è una cosa stupenda. Perché mi ricorda sempre le sperle di Walt Spencer. Capite? Cioè, noi siamo aggressivi anche nel modo di fare musica. Per quello che vi entriamo dentro. Qui invece tutto, tutti gli elementi più aggressivi vengono, si ritirano. Sì, è più dolce, è più dolce. E quindi è il reintrodotto rullante. E il bello è che tutto questo lo facevamo ballando in una stanza piccola, mentre avevamo un computer e basta, quindi non casse né niente. Questo non è finito nella canzone, ma c'è un piccolo shaker da qualche parte. Ah sì. Probabilmente voi non l'avete sentito. Remix! Io vorrei remixarti la faccia ogni tanto. Eh, peggio di così non si può. Comunque... Comunque questo... Seconda strofa, in cui ci passiamo, abbiamo deciso di passarci i temi vocali. Questa è la tua. Seconda strofa. No, è la mia. No, no, è la tua. Fantastico. Primo live. No, no, in sicuro... No, no. Madonna. Spaccheremo il sedere dei popoli. Ok, no, tu vai a aprire, io continuo a spiegare. Ok, qui veniamo introdotti nel secondo ritornello. Volevo portare la vostra attenzione su questo suono. Questo non è una chitarra elettrica, ma è un synth che abbiamo comunque studiato e arrotondato per farlo sembrare una chitarra elettrica, perché siamo dei geni. Tema strumentale gigantesco. Ah, che qui non c'era ancora. Comunque no, in qualche maniera non è partito. Ci siamo? Bentornati con la magia dell'editing, perché Matteo non è in grado di toccarsi. Bentornati con la magia dell'editing, perché... Non sono in grado di toccarmi, hai detto. Ok, questo l'hai detto tu, non l'ho detto io. Sì, quando hai deciso di stoppare di tua sponte, hai premuto il tasto sbagliato. Ho mandato un missile in Suriname. Chiedo scusa a tutta la popolazione. Comunque tu stavi dicendo di non parlare di roba troppo tecnica. Interrompendomi. Io ti voglio bene. Ok, fantastico. Questo è tutto il tempo che abbiamo. Non aspettavo altro. Non aspettavo altro di dire una mia confessione outing dei miei sentimenti nei suoi confronti. Comunque... Ti voglio bene è outing. È outing. Ti faccio outing dalla finestra. Guarda, mi interessa se vivi o muori. Gay! Comunque andiamo avanti. Adesso, in ogni puntata, cercheremo di trattare un piccolo pezzettino di ogni canzone dell'album che uscirà, perché noi, siccome siamo aggressivi, buttiamo dentro ai pezzi degli easter eggs. Ad esempio, come io pensavo a un rugito di un T-Rex in questo caso, non coadiuvato dal mio collega Giacomo, che invece pensava semplicemente a una sirena, però in ogni pezzo abbiamo aggiunto qualcosa. Comunque è lo stesso suono. Sì, esatto. Sì, infatti avevano delle sirene, i dinosauri. È comprovato. Comunque... Scusami. Tipo, non so, ci piacciono suoni dolci, tipo un martello su un incudine, un bazooka, un gruppo di orchi urukai che marciano verso Gondor. Comunque sembra che stai sparando cazzate, ma tutte queste cose effettivamente sono nell'album. Ci sono, c'è tutto nell'album e cercheremo di portarvi in un viaggio meraviglioso, quasi quanto quello di Frodo e Sam verso Mordor, a scoprire le piccolezze, le dolcezze, le simpatie, le perle che abbiamo inserito nell'album di cui vi parleremo. Chiaramente non facciamo nessun tipo di anticipo sulla data e sul nome. Se lo dici ti taglio le dita. Non lo dico, ma non era mia intenzione. Ma non mi fido di te. Ok, fai bene. Detto questo, Giacomo saluta i nostri ospiti. Ok. E anzi, prima di concludere la puntata, posso farti una domanda? Siccome sono io che faccio tutto, in tutto, tu potresti essere l'ologramma di Tupac. Sei inutile. E sono io che decido i titoli dei podcast. Faccio Tupac se vuoi. Ok. Comunque, sono io che decido i titoli dei podcast, delle puntate. Decidi tu il titolo di questa. Slattery. È la prima parola che mi è venuta in mente, non so se sia una parola. Beh, lo è adesso, sicuramente. No, Jingle Mandingo. Jingle Mandingo o Mandingol? Manigold. Dai, quello definitivo. Fuoco e Fiandre. Non so, mi sto inventando robe. Ok, comunque metterò uno di questi tre. Ok. E non saprai quale finché non vedo. Grazie a tutti per essere stati con noi. Grazie della pazienza. Ci vediamo probabilmente alla prossima. Se no, se no, se no succede niente di brutto. A Giacomo. Ok. Grazie mille e alla prossima. Ciao ciao. Cool, 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 cool. Come on, dude. Go fuck yourself. Grazie per la visione!